ah 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 sono venuti in questo messaggio video ma se abbiamo fatto succede perché che cosa che sta succedendo ma non è che xplit gli animali hanno bevuto hanno bevuto troppo caffè questo si capisce ma non è che ho aperto xplit mi dice che il tempo è perché ho modificato l'orario del computer oddio forse va avanti ci sono di 5 minuti e infatti guarda sta rallentando il tempo man mano oddio oddio ma che sta succedendo oddio ma noi andiamo alla stessa velocità e questo è il fatto appunto oh vedrò più un item a terra sotto di te te lo dà su aspetta aspetta vero what what the fuck che aspetta no 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 non intanto stiamo farmando si è ristabilito per più un po' what è diventato normale fra beh robe vabbè noi continuiamo a farmare gravel per poi fare la clay che gli servirà francesco per la tinker allora intanto nel mob stone è spawnato nella legendary un sacred ma perchè nella legendary trovo sempre le rotaie? un epic un altro sacred ma epic a dentro ci trovi poi un raid madonna frasso trovo un sacco di armature in ferro ma chi guarda il tempo ogni tanto 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 non è normale ok mi devo informare su sta cosa ragazzi perchè è stata bellissima fra guarda guarda che ti regalo questa l'abbiamo capito sii no non è una power non lo posso caricare dentro qua no serve si chiamava il power induction o qualcosa dopo facciamo un da thermal no 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 dopo facciamo un altro macchino un altro un capacitor guarda allora fra cosa devi fare? smelteri ah fra anzi fra 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 ho già fatto prendi la dust prendi la dust sei ripristinato? si in poche parole ha fatto quello che ha fatto in un'ora perchè allora in un'ora ogni 20 se non sbaglio 20-24 minuti fa giorno e notte in un'ora quante volte fa giorno e notte? tanto tre volte in teoria cioè ragazzi abbiamo scoperto un buggone di minecraft perchè questo è solo un bug bravo Francesco eeeh allora vieni qua le prese la tasto però perchè c'ho l'XP io ho 40 livelli guarda come si riempie nooo no non lo calcola ehi aia ehi aia ehi mettelo sotto come lo fa a prendere staccato? to tu sai Allora Ce l'hai la clay? No, te l'ho dato A chi è pieno Vabbè, mi rimancano ancora 23 livelli Allora, vieni qua Aspetta, non è completamente Vieni qua Deve essere pescino Allora, tu metti la clay E tu metti la dasta E prendi la clay e io metto l'acqua No, no, però ti devi lavare Mi viene male così Ok Ok, noi faremo così per un po' Ok, allora abbiamo Abbiamo fatto Quello che serviva Madonna, fra adesso Ogni secondo è un mega Sto vedendo Ok Perché ho fatto la borce lane? Perché serve Questo qua Un file crucible Però non c'è, mi servono altre due clay Bravo Faccio preciso Ok, allora Questi qua vanno cotti Ok, ecco qua Crucible Allora, nel frattempo Io Francesco Abbiamo la lana Abbiamo la lana Che mili sia La possiamo fare 13 pezzi di lana mi servono Francesco C'è la stringa Che ci sono Allora Appunto Questo qua Lo facciamo così Così Perfetto Ci abbiamo una Ender pearl Giusto Portami l'ender pearl 2 8 Portami l'ender pearl Allora, dobbiamo fare un transfer Nooo Un'abbiamo Ok Si Sì 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 Allora Due reston ce l'abbiamo Due stone Senti Dammi una sacca di cobblestone Che culo Non c'è smettere di fare sta voce È insopportabile Aspettiamo che si cuoce alla cobblestone Ok Ecco ho fatto qua Due Tre pezzi di cobblestone E' Fattiamo a Francesco Mi ha detto di guardare qua dentro Allora Mettendo questi In modo 8 E due ender pearl Al centro Ah Gli è level Gli è level Che cazzo di me Eh sì Allora mettine No Farne più di due Fra Mettine uno qui in mezzo Qui guarda Nel corrido di qua Uno in mezzo a questa stanza qua Qua Aspetta Togli Ti ho fatto il buco E uno qua Vicino alla farm di lava Allora Con questo Ender pearl E questo transfer node Così Dammi tu ender pearl Che te l'ho dato Se non è la chest Transfer pipe Però mi serve Ah beh In effetti Un po' la cosa Si è stata accotta Ah la chest Manca Ok Perfetto Due chest Ho l'inventario Un po' sfatto Allora Butto tutto Qua dentro Questi qua Però non c'entrano niente Via 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 tutti questi martelli Via questi due Anche se non c'entrano qui Ma vabbè Ok Transfer node Eccolo qua Ne da quattro Con la ender pearl La differenza di uno Con Con la redstone Allora Poi cosa dobbiamo fare Oh Abbiamo due minuti fra A meno che non facciamo pure ora Un doppio episodio Però con il doppio episodio Già ho un doppio episodio Per due giorni A meno che domani Non faccio un doppio episodio Ho upato Non so Vedo quanto pesa In casa lo faccio Un doppio episodio E Si Mi servono altri Transfer node Quindi Altra stone Transfer pipe Mi serve Due vetro Ok Così E della redstone Adesso ne abbiamo Solo una Puro no Perfetto 10 Qui Pum 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 Perfetto Allora Con Un transfer node E le pipe Andiamo qui Qui sotto Dove abbiamo Fatto questa farm Nello scorso Epigiorio Collegiamo Questo Qui Così Pa 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 Entry Questo inizia Con world Interact Giustamente Madonna Mi scordo sempre Del world Interact E vabbè Lo rubo qua sopra Per adesso Tanto Lo crafterò In off camera Dopo Tanto Non ci vuole Niente A craftarlo Non faccio Eccolo qua Questo In teoria No Perché Possibilmente Perché manca un blocco Lì Anzi Anzi Ah perché Questo è Stone Via Ah questo È un problema Parchi Facciamo vedere Un secondo Come sarà Smelteri Aspetta Ok Adesso Va Perfetto Perché in teoria La fiamma Non può starci Con questo Cosa sopra Quindi perfetto Allora Nel frattempo Francesco Ha fatto Tutti Gli oggetti Della Tinker Quali Questo qui Non Non ci deve Ah allora Il Seeret Blitz Invece Si attano così Col go Ok Vai qua Allora Si costruisce Praticamente Una base 3x3 E attorno Non necessariamente Ai lati Non necessariamente Lato 2x2 Lato 2x2 Anche per uno Ai lati Puoi metterci Il legno Non ne ho Travola Aaaaa 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 In questo modo Ho abilitato La minimappa Che c'è Meno scordato A riabilitarla Ma esiste N Vai tutti Quanti la tengono Disattivata Perché tanto Fa vedere Il vuoto Allora Si copre così E qui al centro O dove volete No Questa Develo stare qua sotto Vai Eh appunto Io preferisco Al centro Aspetta No Smettere di dare Non si mette qua Fra Smettere di dare Noi lo mettiamo A lato Per comodità Smette Smette Lo smette di controller Perché lo vedo Comple No 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 È bugato È bugato È bugato È bugata È la texture No 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 Non è bugato È bugata È la texture Non fare così Guarda Vedi Adesso ci vuol cosa Qui mi chiamo Dai chiudi Ok Chiudiamo Un tomb È fra ma Il tank della lava Qui E appunto E qui ci va il Red tank Che va a lava Come vedete adesso qua Si è acceso Esatto E possiamo mettere all'interno roba Quello che non interessa Adesso è la roba Allora aspetta però qui Qui dove Ma chi si ha messo il red Drone rain Si mette un self Couchet Couchet E sotto Mette il casting table Che va Poi con Una cosa Del Sotto Esatto E basta E basta Per questo video è tutto Vi saluto Ciao a tutti